Tutto pronto al quartiere fieristico di Cremona. Questa mattina ultimi dettagli da sistemare sui terminali informatici e dalle 8.30 di domani il via nel nuovo unico punto vaccinazioni di Cremona. Le indicazioni sono chiare per chi arriva al quartiere fieristico. Tanti cartelli si dovrà parcheggiare all'esterno e raggiungere il padiglione 1 a piedi. Come ci dice Massimo De Bellis, direttore delle fiere di Cremona. Complessivamente sono circa 3.000 metri quadri, quelli utilizzati dalla procedura vaccinale. fra le sale d'attesa che sono all'interno del padiglione 1 e la sala dove verranno poi somministrate le vaccinazioni, che è la sala Ponchielli. E a seguire nell'atrio le attività amministrative. Abbiamo messo a disposizione tutto quello che avevamo, dalle sedie alle transenne, ai box, evidentemente alla location, nonché anche l'attività dell'ufficio tecnico, quindi dal punto di vista organizzativo e logistico, nella settimana scorsa, affiancando tutte le necessità che sono state poste da parte di ESSTI e ATS. Chi arriva qui deve comunque parcheggiare all'esterno e poi utilizzare l'ingresso principale? Sì, c'è la possibilità di un ampio parcheggio esterno, quindi anche comodo da raggiungere, facile da utilizzare, entrare a piedi dall'ingresso principale e arrivare al padiglione 1. Ovviamente c'è un parcheggio interno per anziani diversamente abili. E intanto la vostra attività vera e propria rimane ferma? Eh sì, le fiere al momento non sono ancora autorizzate, poi obiettivamente il nostro settore è un po' particolare, perché autorizzare domani una fiera vuol dire essere pronti se va bene fra sei mesi. L'Hub è il frutto della collaborazione di tanti enti e istituzioni, la soddisfazione del presidente delle fiere Roberto Biloni. Fin dall'anno scorso ci eravamo messi a disposizione per fare i tamponi, così anche per le scuole, per settembre se non erano sufficienti gli spazi, oggi per le vaccinazioni. Credo che sia stato un dovere che il nostro Consiglio di amministrazione ci ha dato mandato, quindi a me e al direttore, proprio di essere disponibili per la città. Il momento della ripartenza passa attraverso la vaccinazione dei nostri cittadini e la messa in sicurezza della loro salute. Quindi era un dovere nostro metterci a disposizione.